Musica Musica Chi è inciso? Nessuno nel mondo civile può sapere dove la nuova si troverà da noi. Musica Il direttore dovrebbe conoscerli. Quello resta uno in silenzio, poi chi diavolo siete? Il mio nome è Schatterton. Ed è un peccato che non ci siamo filmati, perché non sapremo mai se sia vero con certezza quello che poi alcuni racconteranno, che il direttore, il signor Töraf Sörle, norvegese, si mise a piacere. Grazie. 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 Grazie.